Grazie a tutti. Eh, ma stringe, eh? Beh, tiri fuori i coglioni più. Mi sono fatto per 30 anni questo regalo, speriamo di averci azzeccato, che non sia l'ultima mia esperienza della vita, però ho troppo il suddistruttore e la persona in gamba, quindi sono sicuro mi sento più rilassato. E che altro? Poi le dichiarazioni le lasciamo dopo il volo. Adesso non me lo sento, ci vediamo più tardi. Yeah, Marco! Oh, ma quando ne vorlamo? Oh, ma allora vuole davvero! Oh, bravo! Oh, bravo! Oh, bravo! Oh, bravo! Oh, bravo! Chi siamo, eh? Nooo! Non so, ma aspettavo da essere più... Invece più tancante, invece ancora... Ancora si fa abbastanza... ... 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 Bara Gittin, Gittin Va! Va! Grazie per la visione